La neve d'aprile dei giorni scorsi. In quota a 2000 metri, abbondante la coltre bianca accumulatasi anche sui pendii dell'arco alpino bergamasco. Mediamente ha raggiunto il mezzo metro di spessore. Precipitazioni primaveriliche, insieme a correnti d'aria fredda, hanno riportato le alte valli a una suggestiva atmosfera invernale. Una risorsa idrica preziosa, considerato l'inverno siccitoso, che ci siamo lasciati alle spalle. Richiede però un approccio molto prudente da parte di chi in queste settimane ama praticare sport in montagna. In particolare i rialzi delle temperature, che possono essere repentini al primo raggio di sole stante la stagione, nascondono un'insidia, quella delle valanghe. Chiaro in merito lo specifico bollettino ai nevi all'Associazione Interregionale per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe, punto di riferimento di escursionisti e sci alpinisti. Gli accumuli originati dal vento, in parte alimentati negli ultimi giorni, sono difficilmente individuabili e sono instabili anche alle quote medio-alte. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità di creste e passi e lungoversanti ripidi. Aree pericolose dove le valanghe possono essere originate dal distacco degli strati superficiali del manto nevoso già al passaggio di una singola persona. Ad altitudini più elevate l'innevamento è infatti estremamente variabile a seconda dell'azione del vento ed è debole il legame tra la neve vecchia e quella arrivata di recente. Sono quindi possibili cadute di masse nevose a distanza di tempo ed episodi spontanei. La pericolosità è stata così portata a livello 3, quindi marcato pure per Valtellina, Orobbie Bergamasche e Alta Valle Camonica.